Una buonasera da Pradielis con la capogruppo di maggioranza Carla Lesa avevamo parlato di questa struttura qualche tempo fa ed eccoci qua a raccontarla a spiegarvi cosa succede all'interno di questa casa che è una famiglia piuttosto allargata con tante persone che le conosceremo più da vicino, hanno tante storie da raccontare del Friuli di un tempo Allora buonasera Carla Buonasera a voi, ben arrivati nelle nostre strutture del comune di Lusevera Questa è la struttura di Pradieli, sono due strutture adiacenti con il cortile in comune Poi ne abbiamo un'altra su a Villanova delle Grotte Qua sono tutti gli ospiti, c'è alcuni di parecchio tempo, alcuni freschi appena arrivati Molto ben inseriti devo dire, loro hanno chiaramente le loro stanze con il loro bagnetto però poi vivono in comunità, quindi tutti i pasti vengono fatti assieme hanno dei momenti di aggregazione e devo dire che l'ambiente piace Anche perché guardarlo non ti dà l'aria di essere una casa di riposo ma una serie di abitazioni Adesso c'è il vantaggio che il virus sta allentando un po' la sua corsa e quindi abbiamo un po' più facilità anche di farli stare assieme Poi adesso il bel tempo ci aiuta Qua spesso ci sono delle giornate ventilate, quindi oggi è abbastanza caldo Però normalmente sono ventilate, quindi loro stanno bene anche fuori Allora, con la Lesa continueremo a parlare più tardi Allora abbiamo anche una coppia di fisarmonicisti Uno è sedicenne, quindi così rispettiamo le regole Questo è il suo figlio, lei me lo conferma, signora Sì, Valentino E lei è la mamma? Sono la mamma, sì E il papà dov'è? Il papà lavora, lavora all'estero tra l'altro Si chiama il papà? Novali Ivan Ecco, quindi diciamo che io l'ho avvicinata proprio per chiedere l'autorizzazione Visto che sembra molto più grande ma a 16 anni Quindi possiamo sentirlo e riprenderlo, no? Sicuro, sicuro Allora io vado da quest'uomo, me la presenti tu la ragazza? Hai una mia coetanea, Lucia Comelli Sì, suoniamo nello stesso gruppo, il fisarmonicisti di Tarcento Cosa ci fate sentire? Adesso dai, suoniamo una staiare E quindi cominciamo con la staiare Allora io vado da quest'uomo, me la presenti tu la ragazza? Allora io vado da quest'uomo, me la presenti tu la ragazza? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono nativa qua, però dopo sono partita per udire un 50, 60, 70, 80 anni fa. 80? 90? Quanti di che anno è lei? Scusi, non si chiede, ma così. Quasi del 32. Del 32, quindi 90 suonati? No, da suonare ancora. Aspettiamo ancora qualche mese. Ma da quando era più piccola cosa faceva? Sempre qua ha lavorato come una mussa, perché lei non sa nei paesi così le bambine quanto lavoravano più, più ancora dei uomini. Allora io avevo dei fratelli, mia madre andava a lavorare, mio padre è morto. Io dovevo dare dei fratelli, tutti quanti. Allora un po' giocare, un po' lavorare e un po' prenderne, perché quando non facevi le cose giubbotte. Era così il mondo. Quindi voglio dire, lei ha fatto lavori a casa, lavorava a casa. Sì, sì, sì. Dopo sono andata via di qua, insomma, a vent'anni un po', sono andata in fabbrica a San Daniele. Dopo ho trovato, ho fatto 15 anni di infermiera, dei vecchi. Adesso sono diventata vecchia anch'io. Ma si stava meglio quando si stava peggio? Ma le dirò una cosa, che adesso non lo so, adesso si sta meglio perché abbiamo tutto. Ma come qua non c'era niente, niente, erano due botteghe che si facevano le corne, osterie si ce n'erano, però non c'era niente, né lavori, non c'erano... Come si chiama lei? Il culetto Liliana, Liliana. Ma lei è il primo moroso, quanti anni l'ha avuto? Non li ho mai voluti. Non ha mai avuto moroso? Tanti e nessuno. Se bassi 91 anni. Ma lei sorride sempre, sì? Sì, 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 io ho un po' la ridarola, mi dicono stai buona ogni tanto, ma mi piace ridere, parlare, stare in compagnia. Ma lei fa dormire presto la sera? Purtroppo, adesso sì. Perché qua, giustamente, ci vogliono le regole. È naturale, qua hai le regole, devi seguirle bene. Allora, quando sono le sei e mezza noi finiamo, tu se vuoi andare a spasso puoi andare a spasso, se non vai a dormire. E siccome io sono ormai solo per andare a dormire, vado a dormire. Sei e mezza va? Nelle sette, tanto per cambiare. Però, però, le dirò una cosa, perché non riesco a camminare, mi fa male. Purtroppo, tutti i miei dollari, devo tenermi lì io, è allora l'unica cosa che vai a riposare, no? Fanno male le ginocchia e non ti portano avanti, la schiena poi... Come passano le giornate, qua? Vedi quell'angolino là, seduta tutto il giorno. Ogni tanto viene la signora Carla, che è un spasso, perché lei è brava in tutto quanto. Lui è a tirarsi su di morale, a farti da mangiare bene, tutto quanto. È una bravissima... Ebbene, scusa, quando lo fai, lo fai sempre buono. La Irma, signora. Va bene, la Irma è qua, ma sei anche tu quella. Ebbene, insomma, ognuno ha il suo, se a me piace di più. Questa ride adesso, adesso questa comincia a ridere e... Basta, basta, è così la vita. Io mi sposto, posso? Tanto che vuole. In caso ci vediamo. Dalla più giovane e dalla più vecchia. È un'altra vecchia che ha come me, due sono. Quali sono? Allora, quella è quella viola, la maglietta viola. E dopo dov'è? È la Elsa. È la Elsa. Sì, è la Elsa. Allora, io adesso a questo punto non voglio perdermi la... Dov'è la Elsa? La Elsa è questa. La Elsa? Sì. Come cosa c'è? Allora... Questa è la Rina, invece. Lei è la Rina e dopo andiamo dalla Elsa? Sì. Quanto è che è qua, signora? Sono sei anni subito. Come se la passa? Sempre tranquilla, sempre tranquilla. Non mi manca niente. Ma una giornata tipo, com'è? Lei si sveglia a che ore? Alle cinque e mezza, sei. E dopo faccio le mie passeggiate e così passa la giornata. Farsi le camminate qua in giro? Sì, sì, verso Cesaris, che io sono a Cesaris. E sono sei anni che sono qua. Ah, ancora la sua casa? Sì. Quindi va a vederla? Eh sì, può essere no. Qualcuno abita in quella casa? No, no, no. Però lei va a cocolarsela? Eh sì, sì, sì. Quanti anni è stata Cesaris? Eh, dal 40 fino a sei anni fa. Ma ha qualche parente? Ho due figli. Vengono a trovarli ogni tanto? Ogni tanto vengono a trovarmi e sono contenta. Ecco, senta, sentivamo prima l'altra signora dire mi siedo, mi godo un po' il vento, sto bene, sto là. E lei invece ha giocato a carta, a tombola? No, a me piace camminare e basta. Quanti chilometri fa ogni giorno? Non so, saranno tre chilometri per andare a Cesaris. Oggi non sono arrivata fino a casa, ma mi muovo, mi muovo. Da che ricordi ha degli anni andati? Tanti, tanti, specialmente io sono nata a Parigi. Del 40 siamo venuti qua io, mia mamma e mio fratello. Otto giorni da Parigi a Udine. Puoi immaginare dormire nei stalloni, nei vagoni, nei fieno. Siamo arrivati lo stesso. Otto giorni ci avete messo? Sì, da Parigi fino a Udine. E cosa facevate a Parigi? Eh, abitavamo là. Quando è arrivata la guerra siamo venuti qua. Ah, quindi siete venuti proprio nel periodo, quindi negli anni 40? Il 9 novembre. Se lo ricorda bene? E cosa ha trovato il 9 novembre qua? Aveva, no, a Cesaris. Era una zia che abitava in casa di mio padre. Allora ci siamo fermati lì e adesso siamo sempre lì. E' così. Allora signora, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Ci rivediamo qua da Pradielis di Lucevra fra pochi istanti. Seconda parte dello scrigno vi stiamo raccontando come si vive in questa casa famiglia. Sono già uscite tanti aneddoti, tante storie. E siccome a me piace dare soprattutto le buone notizie, vedete anche in sovraimpressione fra pochi istanti l'immagine di un piccolo che è nato il 12 di giugno, si chiama Riccardo. E' la quinta generazione dei Comaro, che è un esperto a un'azienda di apicoltura, il signor Claudio. Quindi grazie anche ai genitori, ai neogenitori Francesco e Maria che ci hanno dato l'autorizzazione per mandare in onda l'immagine di questo piccolo che è nato pochi giorni fa. E vedete anche come il nonno ha adobbato a festa e con tanto celeste la sua azienda. Questa è una buona notizia. E adesso ve ne diamo un'altra buona notizia. Ci spostiamo in Varresia. Ho incontrato il sindaco Anna Micelli che ha, grazie a un progetto Interreg, reso accessibile per le persone che hanno difficoltà. Ci sono anche le persone che non sentono, quindi i sordi e non solo le persone che hanno difficoltà a deambulare. C'è una struttura e soprattutto dei sentieri che sono stati resi accessibili proprio per queste persone sfortunate. Abbiamo incontrato il sindaco di Resia Anna Micelli e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Sindaco Micelli, che cos'è il progetto Smart? È la possibilità anche a Resia, presso la Tana, al centro naturalistico all'Ischiazze di Resia, di poter far fruire la nostra bellissima valle e tutte le cose che può offrire anche a persone diversamente abili. non vedenti, non udenti e anche a chi è in carrozzina con attrezzature speciali che sono state acquistate grazie a questo progetto Interreg Italia-Austria, del quale noi siamo molto orgogliosi perché ci aiuta a far conoscere a tutti il nostro bellissimo mondo. Vicepresidente Mazzolini, è noto che la sua sensibilità nei confronti dei meno fortunati è presente da tempo. Come guarda questa iniziativa? È tanto un'iniziativa importante perché mi ha anticipato il Sindaco e tutto quello che stanno facendo Resia è un esempio ma anche tanti altri territori del Friuli Venezia Giulia e anche la Regione sta facendo la sua parte sostenendo e finanziando i progetti importanti per abbattere quelle barriere che tante volte diventano barriere troppo importanti e troppo penalizzanti per le persone meno fortunate. Un esempio è Resia, un altro esempio è il Monte Lussari per esempio dove un importante finanziamento per quel borgo permetterà finalmente anche ai disabili poi diversamente abili, perdonatemi, di poter raggiungere il Monte Lussari. E rieccoci nuovamente con voi Iginio Tagliaferri è un altro personaggio che vive qui nella casa famiglia di Pradielis. Lei è originario di Piacenza? Sì. Dove esattamente? Carpanetto, Piacentino. Dov'è esattamente? Beh si trova a 18 km da Piacenza andando verso le colline dopo San Giorgio 18 km, via Mopese, abbastanza bene, sì sì. Senta, e lei è qui da quanto tempo? Da qui a... Eh... Sette, otto mesi, via, otto mesi. Ho portato la moglie, via, eh, mi trovavo male, infine non trovavo là. E ho trovato qua, qui mi trovo ben, benissimo, e ho portato la moglie e dopo, eh, eh. Ma com'è arrivato a Pradielis? Beh io sono arrivato perché io, mia moglie è del friuli, è di Nimis, no? E io mi ricordo, facevo qua, passavo in bicicletta a tempi di vacanza, così, no? E cercavo là una casa per mia moglie e non si trovava via. Sì, è bello vedere, belle sale dopo, però all'interno... e poi mi è venuto in mente qua e ho detto con la figlia, boh, c'è lì, Pradielis, mi sembrava di aver visto. Questo non esisteva ancora. E poi, ad ogni modo, via, a farlo breve, è venuta la moglie, ho la figlia che è qua, e è venuto a vedere anche il figlio, ho detto vai a vedere, ho venuto anch'io, due volte a vedere, ci ha piaciuto e sono venuto anch'io. ma però io l'ho portato mia moglie. E poi alla fine è rimasta anche lei. E poi dopo è capitato così e mi trovavo bene, servito ben, andavo proprio a gente, benissimo. Senta, cosa faceva prima di andare in pensione? Io ero capocontiero in Francia. C'era l'emigrante? Sì, e Dio, e Dio, quasi 67, 68 anni che ero in Francia, vicino a Parigi, via. Quante case ha costruito? Oh, Dio, ho fatto le case, e ne ho fatte, ne ho fatte anche delle torri, torri di Ria Piazzale, torri d'Orgenna, e sì, ho girato quasi tutta la Francia, 4 ordri di Monde, sì, sì, sì. Quindi sa bene il francese? Sì, abbastanza, dopo 60 anni che di più. Che ricordi ha della sua giovinezza? Eh, ricordi della giovinezza, eh, pochi ricordi, tempi duri, via. Sono andato via per non fare militare, mi sono trovato in Francia, proprio provvisorio per qui e là, e poi mi sembra avuta l'idea, via. Qua la zona mi piaceva, e qua mi trovo proprio bene. Senti, in Friuli tornava spesso? Sì, perché la moglie, mia moglie è di Nimis, vennevamo in vacanza qua, e io, con noi facevo tutte le biciclette. Ha facciato la corsa in bici? No, la corsa no, ma io, sì, mi piaceva molto, anche là, in Francia, facevo il minimo sui 300 km per settimana, sì, sì, queste montagne le ho fatte tutte. Lei ha 91 anni? Eh, no, non ho, Dio, non del 33, dai, mi fa bene. faccio già più vecchio, è vero? Sì, ma fa niente, via, in ogni modo, no, non mi sento male. Ci può spiegare come si arriva a questa età così a Arzilli? Cioè, è stato attento all'alimentazione, non ha fatto, non ha mai strapazzato? Sempre ha lavorato, via, no, non sono strapazzone, no, non lo sono, ho sempre cercato di... Regole? Regole, via, per me la regola, regola via. Andava a dormire presto la sera? Ah, sì, abbastanza, sì, sì, non sono... Cosa le piace fare, adesso che ha quasi 90 anni? Mi piace, mi piacerebbe, mia moglie starebbe bene, e mi piacerebbe, ecco, passare... Che stesse un po' meglio, insomma. Sì, sentirmi meglio, eh, vivere via, però mi piace, ecco, pitturare, no, via, un po' di tutto, un po' di scultura, un po' di tutto. Senta, questi li fa lei? Sì, io ne ho fatti, io non ne ho fatti, c'è uno qua su, c'è uno in Francia, sì, ma per divertirmi. E questo cos'è? Questo è un ritratto? Eh sì, ma ho così un schizzo, no? Perché se si guarda così, è una donna. E questa parte di qua, è maschio. Vabbè sì, il mondo è fatto di uomini e donne. Eh, ma no, ma sono paciù, perché è capitato così, e tutto questo qua, dopo che sono arrivato in pensione, 60 anni. E le è venuta questa passione? Eh, vuol dire sì, ho cominciato così, anche là, in Francia, non sono vivo, che è ancora l'appartamento là, ho pitturato, un po' sui muri, poi dopo via, 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 che sono pitturato, io lo chiamo così, per divertirmi, via. Che colori utilizza? Eh, la pittura, come si chiama? Pittura all'olio. Ad olio? L'olio, l'olio, sì, sì. Senta, l'ho chiesto a altri ospiti, che cosa le piace mangiare qua dentro? No, qua dentro? No, io mi trovo bene. Ma mangia che cosa, volentieri? Un po' di tutto, io, un po' di tutto, c'è un po' di tutto, ma è labile. E il menù piacentino, com'era? I tortelli? Ah, i tortelli, i pisarei, e tutto un'altra cosa, perché Dio è ricco, non dobbiamo stare attenti. Senta, in piacentino, in piacentino, mi faccia una piccola parlata, dicendo come si sta bene a Pradielis, vi auguro una buona giornata. Sì, è questa bella volta, in Piazza Italia, a Pradielis, è proprio una bella giornata. Ti capisco? Ti capisco, signor Bassi. Ti capisco. Allora, Piazza Isat Carpanè, questo è? Piazza Isat Carpanè, Piazza Isat Carpanè, di Cervi, Elisa? Lei è l'operatrice che si occupa, quella struttura. Come si chiama? Loriana, questo ci lascia perché va in pensione. Allora, andiamo da Loriana, così chiudiamo questa parte. Loriana, lei lavora da quanto? Da 22 anni. È una missione. Sì, vogliono andare, proprio bisogna avere passione per gli anziani. perché se non si ha passione è meglio abbandonare questo lavoro qua. Senta, il primo giorno se lo ricorda? Sì, sì, non con questa struttura qua, la vecchia struttura vedronza. Io ho cominciato a lavorare, a imparare, con una mia collega che mi insegnava. Senta, ma gli anziani fanno i capricci? Sono peggiori dei bambini qualche volta. Bisogna avere pazienza, sgridarli quando serve. Io sono un po' severa, io ho successo. Senta, e come si fa a intrattenerli, a tenerli occupati? Come è passata la giornata? Ma sono lì, parlano tra di loro, una risata, fanno le passeggiate, passano il tempo. Qualcuno, c'è una che è cieca, allora lei si legge i suoi libri, un'altra passeggia, questa qua, povera, lei è come che dorme, però passano il tempo. Lei va in pensione? Sì. Ma le viene la voglia di venire qua a fare un po' di volontariato? Sì, sì, ma io ci ho detto che io starò presente, a parte che ho una zia qua che devo vedere, assisterla, però mi dispiace andare, bisogna andare prima o dopo. Senta, grazie, noi adesso andiamo in pubblicità, grazie per quello che ha fatto e per quello che farà ancora. Spero di continuare a fare, mi dispiacerebbe se non farei più. E allora, noi da Pradielis ci fermiamo, un po' di pausa e torniamo qua. Terza parte dello scrigno, siamo nella casa famiglia di Pradielis, alla mia sinistra c'è un uomo che sta acquisendo una forma fisica, io scherzo con lui perché mi ricordo che qualche tempo fa l'ho incrociato in bicicletta e faceva fatica, come faccio fatica ancora, e adesso l'uomo, lo vedete, è in una forma quasi smagliante, chissà perché, ma lasciamo il dubbio cari telespettatori e telespettatrici. Allora, questa è una struttura d'eccellenza, l'Usevere è un comune piccolino, ma questa è una punta di diamante, no Paoloni? Assolutamente sì, le case famiglia sono un punto di riferimento per le persone anziane, in quanto se si troveranno da sole possono trovare qui nelle case famiglie un punto di riferimento per vivere e continuare a vivere in socialità, non essendo da sole a casa magari. E quindi... Sindaco, si può dire che piccolo è bello, no? Direi proprio di sì, nonostante le difficoltà, piccolo è bello, anche nei piccoli comuni ci sono delle punte di diamante come giustamente hai ricordato prima che devono essere valorizzate e l'amministrazione comunale sicuramente è qui per aiutare a sviluppare queste case famiglia e l'associazione che gestisce le case famiglia. Ecco, dalle prime interviste che ho realizzato appaiono lucidi, contenti e si sentono quasi liberi qua dentro. Direi proprio di sì, oltre alle bellezze naturali che possono vivere qui a Pradielis e anche a Villanova perché c'è una struttura anche a Villanova. Oltre a questo credo che il fatto di essere in compagnia, di vivere in compagnia gli aiuti a prolungare la loro vita e la loro felicità soprattutto. Ecco, una storia che mi ha raccontato una signora di quasi 90 anni mi dice parto, faccio 3 km al giorno e vado a vedere la mia casa. Sì, anche questo è attaccamento al territorio, forse siamo noi friuliani siamo un po' malati dal mal dei chiasi e dal madone però è bello, si tiene attiva e anche gli altri camminano per le strade del comune quindi è anche bello vederli e soprattutto incontrarli e scambiare anche due parole perché loro rappresentano la memoria storica del comune e quindi è giusto anche raffrontarsi con loro anche se ci sono dei problemi magari possono aiutare con la loro saggezza ad affrontare problemi e a costruire il futuro della comunità. Allora Paolone se ti dico Agnoletto tu cosa mi rispondi? La direttrice del nostro distretto il distretto è molto vicino alle strutture le case famiglie e anche le altre strutture che ci sono nei comuni del nostro distretto e quindi un grosso applauso e merito per la loro vicinanza ai comuni e alle strutture per anziani. Dottoressa Agnoletto casa famiglia sono due termini che insomma si legano molto bene assieme e rappresentano molto bene quello che succede qua dentro da un po' di anni. È decisamente un valore aggiunto queste realtà che sono peculiari secondo me del territorio tercentino e per me veramente sono un valore aggiunto rispetto magari a tante altre strutture proprio per le loro dimensioni e una realtà di famiglia che spesso in strutture molto più grandi è difficile ritrovare. Quindi noi le sosteniamo le abbiamo sempre io credo molto in queste in queste realtà e le abbiamo sostenute anche in momenti difficili come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi due anni con il covid le abbiamo sostenute e il distretto c'è stato e c'è come riferimento c'è un rapporto costante con i referenti della struttura e gli interventi laddove necessari sono settimanali ecco quindi il distretto c'è. Senta io vorrei mostrare e poi magari due parole scambio anche con le sue collaboratrici questa signora chi è? Bruna Odasmini è la colonna del distretto sanitario di Tarcento è la responsabile delle professioni sanitarie ed è davvero la persona di riferimento i rapporti con le strutture tutte le strutture che sono numerosissime in particolare nel territorio del Tarcentino lei riesce a gestirle tutti e invece è la signora sul dondolo? La signora sul dondolo è la dottoressa Marine Mary ed è la referente per tutte le case del territorio di tutta l'azienda di tutta Asuf quindi voi capite che diciamo è un personaggio davvero importante nella nostra organizzazione ecco io ho già raccolto molte storie molti aneddoti potremmo dire la domanda potrebbe essere lo sforzo ma definiamo l'impegno quanto vi impegnano queste strutture? In questa realtà sono molto numerose nel Tarcentino rispetto per dire ad un'altra realtà che vivo io che è quella di Cividale a Cividale ho tre strutture qui tra case case famiglia case di riposo 17 mi confermano con realtà molto diverse organizzazioni molto diverse però sono un numero veramente consistente ecco quindi qui è un impegno importante ecco da cosa vuol dire perché ce ne sono così tante vuol dire che ci sono tante persone sole che però non vengono scaraventate nelle case di riposo esatto è proprio questo non ci sono solo case di riposo che sono effettivamente una realtà ma ci sono anche delle realtà molto più piccole che è quello che vi dicevo hanno veramente un valore aggiunto che sono queste case famiglia o delle realtà di abitare possibile quindi realtà che fino a qualche anno fa erano praticamente sperimentali e che veramente sono dei luoghi per poter continuare a vivere in una dimensione familiare con il valore aggiunto appunto di non dover essere ricoverati in strutture per anziani vere e proprie e quindi lasciati là certo allora Agnoletto lei rimane ancora qui perché ho visto che è arrivato qualcosa di dolce quindi la lesa non si abbandona quindi io sono diabetico e quindi non posso mangiare tanti zuccheri ma io dovrei essere a dieta ma non importa guardi i bassi il nostro operatore guardi che forma strabiliante smagliante eh sì sì allora mi piace creare questo contrasto e quindi gli anziani qui i piccoli piccolissimi a Magnano e Riviera nei giorni scorsi c'è stato un torneo nazionale il primo con squadre importanti Bologna Padova tanto per citarne alcuni ha vinto il Bologna ma lì ha vinto lo sport e ho avvicinato il presidente del Riviera del Magnano calcio dell'associazione sportiva Magnano e anche l'allenatore che è stato una quasi una leggenda per il calcio italiano l'allenatore del Padova sentite cosa entrambi rappresentano raccontano di quella e giornate di che cosa deve essere il calcio per i più piccoli qualche volta alcuni genitori Agnoletto sono forse nati a tra poco Giovanni Sirica è archiviato il primo torneo nazionale per quello che riguarda i più piccoli del calcio quanti ragazzi sono arrivati? sono arrivati 16 squadre da 10 ragazzi 160 bambini da cui genitori nonni abbiamo avuto una buona influenza e alla città di Magnano abbiamo forse regalato qualcosa di non possiamo dire eccezionale sono arrivati i club da diverse regioni da cui due squadre professionistiche anzi più di due squadre professionistiche le più importanti Bologna e Padova poi avevamo Triestina e Triestina e l'altra era il non importa ecco questo possiamo dire che è il primo torneo nazionale del torneo della ripartenza sì è il primo torneo e l'abbiamo fatto proprio perché ci sentivamo di ripartire e di dare che so qualcosa di più ai bambini per farli sentire di nuovo liberi e mandarli nel futuro sperando che migliora questo mondo ma questa è la nostra filosofia Presidente non ha vinto nessuno e hanno vinto tutti non hanno vinto tutti perché in questo sport con i ragazzi vincono tutti non vince il singolo il singolo può fare la differenza ma non vince da solo l'età media e l'età media stiamo dai 10 anni a 8-9 la media è 10 anni 10 anni Marco Vianello mi puoi un po' tirare la linea su queste due giorni a Magnano in Riviera allora intanto è stata per noi un'esperienza bellissima perché il paesaggio è strepitoso siamo stati benissimo accolti bene è da fare complimenti all'organizzazione perché siamo stati veramente accolti bene e non ci ha fatto mancare nulla anche le partite sono scivolate via bene i tempi sono stati rispettati quindi i bambini con un caldo così avrebbero potuto soffrire invece il livello è stato anche alto ecco come si spiega il calcio dei bambini 10 anni guarda io penso che i bambini sono imprevedibili nel senso che io lavoro con loro da un gruppo prevalentemente nuovo da inizio anno e ho notato che le motivazioni fanno la differenza per me la bambina natura deve essere riuscire a capire i bambini e lavorare sulle teste nel senso che i bambini fin da piccoli devono potersi esprimere liberamente però noi allenatori dobbiamo cominciare a dargli le giuste motivazioni fargli capire che il calcio è bello è un gioco ma al suo tempo si vuole anche del sacrificio penso che loro devono imparare anche cosa c'è dietro il gioco del calcio e anche per trovarsi meglio poi in futuro sono convinto comunque che in questo percorso di crescita che abbiamo avuto noi a Padova questi bambini sono partiti a un livello diciamo standard normale e sono cresciuti tantissimo sono cresciuti tanto e sono contento più che altro del lavoro svolto perché come dicevo prima i bambini sono assorbono tanto e più riusciamo a dargli questa età e più se lo ritrovano da grandi senti com'è cambiato il calcio da quando questo signore giocava nell'Avellino il calcio è cambiato notevolmente ma ti parlo io ho fatto una carriera professionisti ma sono partito da piccolo come loro e ho fatto il loro percorso partendo da una società dilettantistica andando poi nei professionisti facendo poi una carriera da professionista è cambiato il calcio perché come ti dicevo prima noi eravamo abituati a giocare a calcio a divertirci semplicemente avendo il pallone adesso noi dobbiamo farli divertire ok però secondo me il gioco del calcio come dicevo prima bisogna applicarsi perché senza applicarsi non impari non dico che dobbiamo tornare ai tempi indietro che passiamo muro perché noi passiamo tanto muro e il calcio è cambiato però dobbiamo a stesso tempo buttargli dentro piano piano secondo me diciamo quelle prerogative che avevamo quando eravamo più piccoli noi quindi lavorare tanto anche su questo aspetto dell'imparare di voler imparare per crescere Dottoressa Bruna Odasmini la presentazione l'ha già fatta la dirigente del distretto qualche grazia da queste strutture vi arriva? Sì allora noi diciamo che interveniamo con il personale infermieristico del distretto e notiamo la differenza nella gestione in queste piccole strutture che rappresentano un esempio di welfare di comunità nel senso che l'anziano è all'interno cioè è a casa sua e riesce a manifestare i suoi bisogni le sue felicità le sue problematiche come fosse a casa sua a differenza delle grandi strutture dove questo non sempre ma spesso non è possibile e diciamo che c'è un interscambio quindi qua c'è un welfare in cui c'è un'interazione delle sinergie sia da parte del distretto sia da parte di altri attori che intervengono la struttura con Carla Lesa e tutti gli operatori e gli stessi anziani che diciamo che sono sempre molto accoglienti e fiduciosi anche verso quello che noi portiamo quello che riceviamo da loro Ecco lei diceva accogliere gli anziani sono loro essere accolti ma loro ci accolgono diciamo che quando gli infermieri vengono qua sono molto contenti perché si sentono anche loro come fossero in famiglia perché proprio anche la struttura come viene fatta come viene si passa la giornata quindi loro arrivano nei momenti che possono essere in qualsiasi momento mattina pomeriggio o anche la sera e si trovano sempre accolti perché gli anziani li ricevono come fossero appunto a casa propria Senta avesse un anziano lo magari non fosse possibile nella possibilità di tenerlo a casa lo inserirebbe in una struttura sicuramente sicuramente diciamo che come ho detto è come una famiglia e quindi si sentono proprio coccolati questa è la parola corretta Mary Marin così abbiamo detto la cosa al 50% diceva prima l'agnoletto è un impegno piuttosto gravoso quante sono le strutture è un bel impegno l'azienda sanitaria ha 52 strutture per anziani che sono strutture che appunto accolgono questi cittadini perché per noi sono cittadini del nostro territorio che non riescono più a svolgere la loro vita a domicilio e quindi vengono accolti in vari contesti molto diversi uno dall'altro e da guardarli mi sembrano molto autonomi assolutamente sì perché questa è una struttura che consente di accogliere persone che hanno ancora un certo grado di autonomia e non hanno gravi problemi soprattutto di salute e sanitari senta quando entra in queste strutture che pensieri fa? beh che non solo ci porterei la mia mamma che vive a casa in maniera autonoma ma ci verrei io perché come diceva Bruna anche io ho questa sensazione ogni volta che veniamo qua di una sensazione di accoglienza proprio come si chiama sua mamma? Adorina bel nome eh sì ecco le vostre visite in che cosa consistono di che cosa hanno bisogno questi anziani allora noi da un punto di vista di direzione ci occupiamo eh più in particolare di tutto quello che ha a che fare con l'organizzazione soprattutto in questo periodo di covid quindi problemi legati al contagio problemi legati ai dispositivi di sicurezza problemi legati alle varie modalità di ehm anche di vita quotidiana perché Bruna diceva bene è una famiglia che purtroppo però deve rispettare delle regole che in casa non ci sono perché sono più persone che vivono assieme allora noi con il dipartimento di prevenzione e in strettissimo contatto col distretto ci occupiamo di tutta quella che è l'organizzazione sanitaria di queste strutture in tempi normali quindi covid permettendo ci occupiamo invece della formazione del personale degli incontri della risoluzione dei problemi che quotidianamente si possono presentare o almeno cerchiamo di farlo senta le aspettative di vita si sono molto allungate queste strutture secondo me vanno proprio in quella direzione no? assolutamente sì perché appunto sono strutture che consentono il mantenimento di una vita come a casa in un contesto però di assistenza quindi le persone qui mangiano bene vengono aiutate a lavarsi ma possono uscire andare a vedere casa loro ritrovare i propri affetti anche in termini sociali quindi vicini di casa qua non mancano grazie dottoressa di niente io vado dal vice sindaco Pinosa quindi ve lo ricordo siamo nel comune di Lusevera allora vice sindaco gli anziani sono sentivamo prima dobbiamo anche richiamarli perché tornano ad essere quasi dei bambini sono delle figure dei profili che vanno salvaguardati ma sono anche difficili da gestire sì beh devo dire però che Carla l'Esa e le ragazze che lavorano all'interno della casa di famiglia si impegnano tantissimo fanno un ottimo lavoro ecco dicevi che sono anche dei bambini noi abbiamo pensato anche a questo purtroppo ci ha frenato un po' il covid perché avevamo un programma di fare un'interazione tra gli anziani e i bambini perché gli anziani raccontino noi bambini quello che c'era una volta qua com'era come si viveva e quindi i bambini anche insegnano gli anziani a usare le moderne tecnologie avevamo pensato a fare anche questo purtroppo il covid ci ha rubato due anni però adesso speriamo che finisca sta cosa vedremo di organizzare anche questo e poi anche di fare delle cose dei lavori importanti sulle case famiglie dicevi i nonni che raccontano ai bambini dei cantastorie le fiabe raccontate alla casa famiglia ma anche storie di vita vissuta sì più che altro storie di vita vissuta di come si viveva una volta qua quello che si faceva delle mucche che si avevano nelle stalle del bosco che si lavorava delle difficoltà della miseria che c'era della guerra di tutte queste cose qua che una volta i nonni raccontavano ai bambini questa cosa qui un po' si è persa adesso negli anni io penso che sia molto importante perché per andare avanti in futuro bisogna conoscere anche il passato grazie vice sindaco ed ecco ci torneremo poi dal vice sindaco Pinosa e la come Lucia come lì ci farà sentire la sclave del Tor come ho fatto prima per il l'altro l'altro cucciolo lo faccio così rispettiamo le regole lei è la mamma di di Lucia Comelli quindi lei è contentissima che sua figlia suoni e quindi lei ci autorizza non c'è problema quindi visto che è minore quindi abbiamo rispettato le regole possiamo anche salutare il suo marito Beppi Beppi che è a lavorare nei campi nei campi e sarà felicissimo che sua figlia sei figlia unica no no ho altri due fratelli si chiamano Giulio e Matteo perfetto e abitate a Nimis invece l'uomo di prima era di Artegna andiamo l'uomo di prima e l'uomo di prima l'uomo di prima e l'uomo di prima e l'uomo di prima e l'uomo di prima siamo nella quarta parte se non mi sbaglio quindi possiamo andare con un altro brano che è La cortesane l'uomo di prima 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 noi adesso ci fermiamo chiudiamo qui questa quarta parte e poi andiamo a conoscere altri protagonisti della casa famiglia qui di Pradielis Quinta parte dello scrigno Angelina Carlini è un'altra ospite di questa casa famiglia di Pradielis è originaria di Bicinico ha 86 anni ed è qua da due Sì Ho detto tutto bene? Sì tutto bene Senta come si trova da queste parti? Benissimo io sono venuta qua ma che veramente non volevo venire sa come si è e mio figlio ha detto papà ho detto mamma cosa vuoi stare adesso da sola perché non posso fare niente col braccio non posso ormai sono andata allora mi ha detto mia figlia che lavora insomma ho conosciuto una signora di qua parlano già in famiglia dopo si parla dei genitori e dice mia mamma che non so dove mettere che non vuole andare in casa di riposo perché vedo per televisione i disarci allora dicono guarda che dico io ho un ambiente e insomma mi ha detto allora prima è venuta lei che ha visto dopo è venuta la prima ha visto mamma guarda ti portiamo a un bel posto è dovevo stasera no? venire su sono andata qui sta benissimo ho detto io non so il paradiso credo penso ho detto ma non so se lo vedo almeno qui vedo ho capitato tutti i dolori no? e qui si sta benissimo sono stata una signora così perché sa quattro figli poi nella miseria gli anni del 56 no? e insomma buon buon ho detto insomma visto qui sono entrata benissimo con loro molto molto bene ecco senta ma qui pregatevi capita di pregare? eh se preghiamo preghiamo che abbiamo la messa la domenica dopo io ho l'abitudine vecchia e qual è l'abitudine vecchia? di pregare prima di andare a letto c'è rosario? no di quel preghiera padre nostro lei non ha peccati signora? di che cosa? non so io sono peccati non è ha mi dicono miei figli perché ho venuto una volta che ero venuta si andava in giro con mia figlia e non so adesso non so dire è lunga e ho venuto che faccio la comunione Dio non sei confessata è così perché una volta si usava a confessarsi no? ma mamma noi hai ammazzato hai rubato cosa hai fatto con tutta la vita che hai fatto no? appunto e adesso si riceve la comunione che è qua ah vengono a portarvela? ogni settimana la domenica sì insomma se t'avate d'accordo con tutti? sì sì no no qua non si baruffa? eh c'è sempre qualcuno sa che vuole essere i po' per cosa litigate? no no litigare non vado a litigare io scherziamo non litigava mio papà non voleva eh e anche mia suocera ne aveva 15 figli 15? 15 perché in tempo di guerra lei è rimasta vedova del marito e mio marito e mio suocero è rimasta vedova con la ferra spagnola allora 5 ne ha trovati 10 ne ha avuti lei non ha ammazzato nessuno vedi adesso che ammazzano i mammi di continuo di continuo senta e dal punto di vista alimentare lei chiede qualche volta mezzo tutto cos'è che mi piace hanno fatto la panata loro ma non la faccio come facciamo noi come la farei? io la facevo sì metto nella cosa prima nel brodo preparo il brodo magari carote sedano se leggo tutto dopo mettevo il pane per fare i bambini invece qui è un'altra roba quella non mi è piaciuta l'unica cosa senta che cosa le manca di più del friuli di un tempo magari non le manca niente non manca mio marito mio papà mia mamma ma il papà e la mamma li ha persi tanto tempo fa sì sì però mi dicono che lei il suo marito l'ha conosciuto grazie alla fisarmonica la classe del 34 sa che facevano la classe non so se fanno ancora facevano la festa quella di 20 anni e allora si andavano a ballare la sera e quella lì era un sabato sera che facevano quei giorni di festa qualche settimana che andavano a fare la visita e ho detto vado a vedere no mia mamma tu non devi andare a vedere perché era peccato vedere no a ballare e se già per il paraco ho detto in chiesa invece mio papà ha detto grazie a che vado io a prenderla porca miseria entro mamma mia che bello ma lui era in altro mi ha sentita lui no era tutto pieno di gente mamma mia che bello un attore come si chiamava suo marito Gorgiavito e quindi è andato è andata lei ha fatto il primo passo o l'ha fatto lui 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 no la stessa sera e se gli racconta abbiamo gli ultimi anni mi ha raccontato come ho fatto perché dopo allora io ho detto così basta finito anzi dopo si andava a criticare sa come si è ragazzina e mi fa quando entro mi fa signorina mi permette un ballo no no sono già occupata ti ha dato una balla lei è tornata perché le avevo dato al suo amico che suoni per venire a ballare con me gli ho detto veni a fare perché se l'hai voi di ve e le darei dire allora la domenica dopo no sabato domenica sera non mi ricordo se era sabato sera vedo che perché io abitavo di fronte all'Ena si diceva l'Ena no era sulla porta ma non l'avevo conoscenza io avevo fatto avevo fatto il mio lavoro che dovevo andare al vespero e mi viene vicino e mi dice signorina le permette che sto parlando che posso parlare con lei sì sì ho detto ho iniziato a parlare e dispiace se vengo stasera guarda per me sono tutti amici se vengono perché si aveva sempre quegli amici di paese venivano anche di fuori no se vuole venire ma lui non l'ha anche mangiato per venire e lì è nato tutto grazie 67 anni sì e me ricordiamolo ancora una volta come si chiamava di nome io Carlini lui Gorgia Vito che era su ma speriamo con quello che ha lavorato è sicuramente in paradiso era povero perché dopo il sindaco del paese è andato a chiedere a mio papà ma perché è andato a sposare uno di fuori del paese ma mio papà non aveva detto ha saputo mia sorella prima che muoio mia mamma le ha raccontato tutto tutta la verità e lui mi ha raccontato che uno le ha raccontato tutto di me che io non volevo di quello no allora lui ha detto questa è mia come ti farai Angelina vado a sentire la fisarmonica così lo dedichiamo a tuo marito che ci guarda dalla sua ho già pianto allora andiamo da la balda giovane di Nimis che si fa sentire di Alpestre e Lendler che si fa sentire Grazie a tutti. 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 Cosa ci fai sentire? Allora, dobbiamo andare in... andiamo in pubblicità. Beh, abbiamo ancora due minuti e quindi possiamo fare ancora un brano. Quindi io vado da questa... Ah, lo fate insieme e quindi posso rimanere qui. E ci fate sentire? La Noye, che è un brano tratto da una colonna sonora del fantastico mondo di Amélie. Tavoloso mondo di Amélie, insomma. Grazie. Grazie a tutti. 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 il campanile che domina la scena. lei si chiama signora? Giovanna. Giovanna, lei conosce queste zone? Vabbè, sì. Quanti anni ha? Quanti anni ha? Tanta. Lei quanti anni ha? Pochi. Diciamo pochi. Eh, appunto. Senta, in casa famiglia da quanta è che è? Io ho 15 anni che sono qui dentro. Io ho 15 anni che sono qui dentro. mi hanno interesse. Mi manca tutto. Noi mancano i miei mariti che non c'è più nessuno. Quando l'ha perso il marito? Eh? Quando ha perso il marito? Aveva 75 anni, era giovane. E quindi lei dice mi manca tutto, in particolare cosa le manca, oltre ai suoi affetti? Non so nemmeno io, mi mancherebbe la casa, se fosse aggiustata andrei a casa mia. Ma è tutto, che poi siamo in due, io e i miei nipoti, che non c'è mio fratello. Senta, nella sua vita cosa ha fatto? Io ero a Milano, ho fatto la domestica. E hai iniziato giovane giovane? Poi, sì, avevo 17 anni, e poi dopo ho lasciato quello, ero fatto custode, 28 anni. Custode? Sì. Di cosa? In portineria. Cosa le manca di quei tempi? Mi manca, sì, potevamo stare, ma ci siamo ammalati tutti e due, allora mio marito ha voluto andare via, lui era peggio di me, allora siamo andati via, siamo venuti qui, che a me non mi piaceva, sono cresciuta qui ma non è che mi piaceva a me mai. Senta, che pensieri si fanno quando si è in casa famiglia? Prega, non prega? No, non prego mai. Lei non prega mai? Si prega poco, e niente. E le giornate come passano? Ah, non so, niente, un po' la televisione, vado a fare passeggiate e basta. Giocata a tombola, a carta? No, niente, niente. Non le piace? No, prima, che erano le altre che sono mancate, e sì, ci si radunava, poi si parlava, sì. Ha avuto paura del covid? Eh beh sì, sì, l'ho preso. È stata male? No, 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 non ho sentito niente, solo mi hanno trovato loro, e basta. Senta, grazie, grazie della sua testimonianza, stia bene. Va bene, grazie. Allora, io vado a questo signore che ha un pacco di biscotti, il cellulare... Il cellulare è l'età di 80 anni. Lei ha 80 anni già fatti, compiuti? No, ancora, a ottobre, faccio gli 80 anni. Lei invece qua abita? Da quanto tempo? Io sono qui ricoverato, diciamo, dal 2017. Ho lavorato alla Fantoni per 35 anni, ho avuto un venimento, diciamo, ho battuto la testa sul pavimento, e adesso ho delle conseguenze, allora ho ritenuto di venire qua. Ma così è anche più protetto, no? Sì, sono protetto perché adesso sono rimasto senza genitori. Sì, ho qualche parente che mi dà una mano, ma ho detto, per non stare a pesare agli altri, ho detto, vengo qua e sono più libero, diciamo, no? Anche lei fa le passeggiate, come passa, come scorre il tempo qua? Ma io vado a camminare, a raccogliere dei fiori, così, normalmente, come fanno, diciamo, i pensionati. Lei è originario di? Io sono originario di Ciseris, frazione del comune di Tarcento. C'è da un ricordo della sua gioventù? I miei ricordi della gioventù sono stati pesanti, perché io sono nato invalido, invalido civile, no? E io già tra i quattro anni mi trovavo a Bologna, a Riccioli, per mettermi un po' in ordine, diciamo, l'invalidità dei bracci e dei piedi. Io ho avuto una gioventù un po' difficile. E lei, quindi, voglio dire, di Ciseris, di qualche anno fa, che cosa ricorda? Adesso... Non va mai a rivedere il suo paese? Ciseris torna ogni tanto o no? Sì, ritorno giù con qualche amico anche che mi viene a trovare, perché avevo tanti amici, diciamo, di infanzia, anche per la scuola. Adesso sanno che mi trovo qua, quando sono libero qualcuno viene a trovarmi. Poi andiamo a bere un taglietto o la Coca-Cola, quella che ci fa piacere. Sede, quando torna dalle sue parti a Ciseris cosa va a cercare? Ma, prima di tutto, do una guardata ancora alla casa, perché ho venduta. Ho avuto la fortuna di venderla. Sì, non ho motivi, diciamo, di andare spesso, ecco, a trovare il mio paese. Lei sta bene a Pradielis? Sì, io sto adesso bene a Pradielis. Mi trovo bene anche con la casa famiglia. Ho deciso così di tenermi qui a Pradielis, fino alla mia esistenza. Senta, Natale, Pasqua, i suoi Natali, le sue Pasque, qui come sono? Non ho capito. Natale, Pasqua, come lo festeggia? Eh, la facevo, diciamo, con qualche parente. Mi invitava a casa sua. Sì, perché ero rimasto senza genitori, no? Allora, io ringrazio... Lei si chiama? Renzo Foschia. Renzo Foschia. Adesso noi ci fermiamo e andiamo a chiudere questa puntata dai nostri amici fisarmonicisti. Non prima, perché la consigliera mi sta guardando. Dobbiamo andare ancora a mostrare la cucina. E adesso andiamo a vedere la cucina. E questo è il regno di Irma Micottis, la cuoca della casa famiglia di Pradielis. E' emozionata, ma dobbiamo parlare di una cosa che a te piace fare, che è cucinare. Come sono esigenti gli anziani? Eh, certe volte sì, ti chiedono di fare dei piatti tipici di qua e perciò facciamo lo zicana, che è una polenta un po' morbida. Poi si mette sopra il formaggio grattugiato, il burro fuso, il latte. E' molto buona, è anche un po' proteica, sì, è un po' calorica. Ai nonnini è meglio farli a pranzo, piuttosto che se no non dormono. Sì, sì, meglio a pranzo. Poi si fanno i gnocchi di zucca, si fa il pasticcio di zucca, sì, polenta e fricco, la polenta e la crosta. Irma, com'è cucinare per degli anziani? Eh, insomma, è un po' impegnativo perché, sì, c'è abbastanza lavoro e... Quanto è che lavori qua? Io sono 29 anni, adesso ormai vado in pensione e un po' mi dispiace. Ma hai fatto anche qualche Natale, qualche giorno? Sì, si fanno i Natali, i Capodanni, sì. Quanti anziani hai visto? Tantissimi qua dentro? Sì, tanti perché poi anche sono morti, alcuni, sì. Comunque, sì, è stata bella, una bella esperienza. Ecco, il menù è sempre diversificato perché i nonni mi dicevano che qua si mangia sempre in maniera diversa. Sì, quello che si... in base un po' anche al tempo, alla stagione o alle verdure che ci sono, pensi, pensa a quello che vuoi fare, sì. Il menù della domenica è un po' più ricco rispetto agli altri giorni? Sì, non so, tipo domenica scorsa abbiamo fatto la polenta con la costa, sì, poi c'è il dolce, il gelato, sì, buon menù. Irma, grazie. Grazie a voi. E buona pensione. Sì, grazie. Allora, io lentamente esco da questa parte perché ci stanno aspettando i due fisarmonicisti che ci daranno la buonanotte, poi andremo ai saluti con l'alesa e il buon Paoloni. Ci fai sentire che cosa? Il valser di Paccai. Ah, 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 il valser di Paccai. Allora, io vorrei con il nostro Paolo Bassi, ragazzi, salutiamo a casa con la mano alzata, ciao a tutti e quindi dobbiamo salutare il sindaco, salutiamo il sindaco Paoloni che è alle mie spalle. Questi sono gli ospiti della casa famiglia di Pradielis. Oh, buonanotte, arrivederci, ci vediamo presto. Beh, io sono sempre qua, ormai nessuno mi vuole, devo stare qua. Lei sta lì, perfetto. Ci vediamo. Buona estate. Grazie altrettanto. Evviva. Ecco, tanti giovani rattrappiti che sono tristi. Lei come si chiama, signora? Liliana. Ecco, dovrebbero venire a scuola di positività da Liliana. Devo pensare che in tutti questi paesi qua è l'unica Liliana che ci chiama. Eh, ma c'è un perché, capisce? Lei è unica. No, no, no. E ride, ride, le ha preso la ridarolla un'altra volta. Questa non... Eh? Io sono nata ridendo. E deve andare avanti ridendo. Naturale. Ci mancherà tanto. Quindi dicevo... Eh, cosa devo tenere sul rosario? No, che rosario? Sta scherzando. Preghe ogni tanto, ma insomma... Eh? Bisogna fare così. No, 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 non giri le dita, per l'amor di Dio. Allora, si ride, si parla, si canta e via avanti. Stia bene. Grazie altrettanto. Bene. Allora, io vado da questa parte, quindi... Ecco, vedete Spidi Gonzales? Credo che non abbia fatto tanti chilometri come oggi. Caro sindaco, noi ci salutiamo? Buona serata a tutti. Vi ringrazio di essere stati qui, ospiti delle case famiglie. E spero che abbiate potuto respirare l'aria pura, buona e felice che si può respirare qui. Ecco, secondo me Paolone adesso prenderà la bicicletta e va, perché ormai è diventato uno sportivo. Sì, molto. Mi fa piacere. Poi l'aria è buona, i posti sono belli, abbiamo avuto anche il Giro d'Italia, poi così. La bici ormai è un dovere. Allora, grazie di cuore all'amministrazione comunale di Lusevera. Io vi saluto e vi mando un bacio a tutti gli anziani della... Tanta salute, cara. Tanta salute. Queste sono le risorse di questa struttura di accoglienza. Sono 30. Abbiamo avuto il piacere di venire a fare visita a questi nonni che ci hanno raccontato anche le loro esperienze di vita. Noi ci vediamo la prossima settimana su Telefriuli, canale 11, due volte numero uno. Grazie al nostro tecnico. Facciamo un applauso al nostro Paolo Bassi. Bene, buonanotte e arrivederci. Ciao Luca, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.